buongiorno siamo qua per rispondervi alla domanda numero 2 e la domanda è questa in questo periodo col coronavirus gli occhiali sono più sicuri delle lenti a contatto ok partiamo da questa premessa il virus può introdursi nell'organismo e causare la malattia anche attraverso la congiuntiva e quindi avere l'occhiale indossare un occhiale ci dà una protezione sicuramente aerea ma anche di contatto per cui è intelligente in questo periodo utilizzare degli occhiai di protezione se sono già un portatore di occhiai da vista è intelligente e utile utilizzarli ok se sono uniti un utilizzatore di lente a contatto in questo periodo potrebbe essere anche intelligente non usare lente a contatto e usa è direttamente il mio occhiale da vista se proprio proprio però sono un portatore di lente a contatto e voglio utilizzare lente a contatto seguendo in maniera corretta le istruzioni di uso è intelligente oltre lente a contatto usare anche un occhiale di protezione ok per cui gli occhiali di protezione sicuramente come la mascherina in questo periodo ci possono dare una mano per gli approfondimenti vi rimando sempre al video numero 4 un saluto